Il caso del sindaco Spassino per dare il buon esempio, a Povegliano il primo cittadino si carica i rifiuti in macchina per tenere pulito il paese. Un solo funerale per i tre giovani morti sulla A4, l'impegno del sindaco di Conegliano perché i due fratelli riposino assieme. Ancora incerta la data del rimpatrio del piccolo di 16 mesi, deceduto mentre era in crociera con i genitori. Il gonfalone del Veneto al Family Day romano non piace all'onorevole Rubinato, sbagliato usarlo nelle manifestazioni. Gay Pride a Treviso, lunedì nuovo incontro degli organizzatori con il sindaco Manildo, con Cassugana si tratta sul percorso del corteo. Ore decisive per il futuro delle grafiche, Vianello si lavora per evitare il fallimento e salvare i posti di lavoro. Allarme in siccità soprattutto nella Pedemontana, appello di ATS contro gli sprechi, se non piove potrebbero esserci limitazioni nel servizio. Il radicchio rosso di Treviso arriva al Banco Solidale di Rete Veneta, il regalo dei nostri agricoltori a chi vive una situazione di difficoltà. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Treviso. Dunque in apertura del nostro notiziario, questa sera vi raccontiamo una storia che è anche, oltre che un esempio, una lezione di educazione civica ed è quella del sindaco di Povegliano. Sindaco Spazzino per dare il buon esempio. Accade a Povegliano dove il primo cittadino non si limita a verificare e inviare qualcuno a recuperare i rifiuti abbandonati per strada, ma lo fa in prima persona, con tanto di attrezzatura al seguito e auto che all'occorrenza si trasforma in un furgoncino dei rifiuti. Non è da tutti recuperare i rifiuti e tenerseli in macchina pur di vedere il proprio comune pulito, ma per il sindaco Manzan questa è una missione. Non lo faccio da oggi, lo faccio sempre, ogni tanto mi vedono i miei cittadini che passo da qualche parte a raccogliere le immondizie. Ma c'è tanta spazzatura abbandonata? Beh non tantissima, ma in mezzo ai campi talvolta capita, sono stati degli scarichi brutti veramente. Un bel esempio di senso civico ai cittadini, soprattutto per la scelta di tenersi in macchina alla spazzatura altrui, ma anche a tanti politici che difficilmente tengono mollettoni, guanti e sacchetti nelle loro auto blu. Sono piccole cose che faccio così, si parcheggia in un posto la macchina, c'è sporco e si raccoglie tutto là. Colpisce la semplicità di questo amministratore che non solo vive il suo territorio, ma se ne fa carico personalmente, anche per le cartacce. E questo sacchetto, l'ultimo di una lunga serie, testimonia come esistono ancora sindaci di strada. E la gente di Povegliano è rimasta talmente colpita da questo primo cittadino, che sa scendere dal municipio per diventare anche l'ultimo dei compaesani, da fare a gara per avere quello che è già stato soprannominato, il kit del sindaco. Io ne ho ordinati un po' di mollettoni in modo da chi vuole viene da meglio regalo insieme ai sacchetti e poi insieme puliamo il paese, non una volta all'anno. Perché la filosofia del sindaco all'occorrenza, spazzino, è semplice quanto efficace. Io credo che i sindaci debbano dare il buon esempio ai cittadini e il buon esempio si dà comportandosi in una certa maniera. Io ripeto che è sempre questa cosa, il comune è dei cittadini, quindi io sono prima di tutto un cittadino e come tale faccio la mia piccola parte, tutto l'altro. Allora voltiamo pagina, lasciamo questa storia di paese per tornare ad occuparci del grave incidente stradale nel quale hanno perso la vita tre giovani del Coneglianese, oggi il cordoglio del sindaco Zambone che si è impegnato perché i due fratelli deceduti nello schianto riposino vicino in cimitero. Ci sarà molto probabilmente un solo funerale mareno per i tre giovani morti nell'incidente dell'altra notte lungo l'A4 appena fuori Milano. Alberto Casagrande, 23 anni, Daniela e Antonio Ago, 21 e 23 anni, riceveranno l'ultimo addio assieme come insieme hanno affrontato la morte nel tamponamento violento della loro auto ferma in coda lungo l'autostrada. A scaraventarli contro il veicolo che li precedeva un furgone condotto da un quarantenne di Peglio in Trentino, allenatore di sci alpino, ora indagato per omicidio colposo multiplo dalla procura di Bergamo. Tre vite spezzate di ritorno da un concerto che avevano atteso e vissuto con allegria. Tre bravi ragazzi, il commento unanime, con Alberto Casagrande che stava aprendo un'impresa con l'Africa mentre Daniela Ago, 21 anni, stava studiando da avvocato a Trieste per cambiare le cose nelle leggi italiane sugli stranieri. Lei come il fratello Antonio sono figli di albanesi da decenni nella marca. Prima a Barbisano, da qualche anno, si erano trasferiti in un appartamento di questo condominio di Via Torricelli nel quartiere di San Pio X, dove anche oggi il sindaco Zambon si è recato per portare il cordoglio dell'intera città di Conegliano. Signor Lei si sta adoperando perché i due fratelli riposino vicini. È un segno anche questo, io penso che sia una tragedia che ci scuote. Su questa, se possiamo dimostrare le attenzioni o tutte le attenzioni possibili, facciamo il nostro dovere, faremo il nostro dovere. Ed ora gli aggiornamenti sull'altro lutto accaduto ieri, che ha colpito la comunità di Moriago della battaglia. È ancora incerta la data del rimpatrio, mentre la comunità di Moriago partecipa commossa al dolore della famiglia Antoniazzi, il consolato italiano di Caracas è al lavoro per gestire il rientro della mamma e del papà di Edoardo. Il piccolo aveva solo 16 mesi. Il destino se l'è portato via nel primo pomeriggio di giovedì scorso, mentre era in crociera con i genitori a Dominica, nel Mar dei Caraibi. Praticamente illesi dopo il drammatico incidente stradale che è costato la vita al figlio, Loris Antoniazzi ed Alice Zanette rientreranno a casa con ogni probabilità in aereo. Non sarà comunque un rientro immediato. La coppia, per sbrigare tutte le formalità del caso, potrebbe rimanere nei Caraibi almeno per un'altra settimana, rientrando in Italia solo la settimana successiva. E ora parliamo del Family Day e quindi del dibattito sul decreto legge per le unioni civili e le adozioni anche dei figli di chi si unisce con l'unione civile per l'appunto al Family Day romano. Rappresente anche il gonfalone della regione Veneto. Una scelta che non è piaciuta all'onorevole del Partito Democratico, Simonetta Rubinato. Sentiamo perché. Ho posizioni vicine a quelle del Family Day. Viviamo in un paese che le politiche familiari da anni le trascura, a livello nazionale ma anche a livello regionale. Sono in posizioni vicine ma credo che il mio compito sia quello di trovare soluzioni in Parlamento e non manifestare con chi oggi, in modo molto pacifico, anche bello e colorato, sta riempiendo la città di Roma. A ciascuno il suo compito, quello di chi è stato eletto dai cittadini e in Parlamento. Nel giorno del Family Day, l'onorevole Simonetta Rubinato rivendica il ruolo istituzionale di chi siede alla Camera dei Deputati. È discutibile quindi anche la presenza in piazza del gonfalone del Veneto. Il gonfalone rappresenta tutti i Veneti e quindi è bene, secondo me, usarlo in manifestazioni ufficiali e non in manifestazioni di piazza, dove la politica dovrebbe piuttosto ascoltare e non partecipare strumentalizzando le ragioni di chi manifesta. Un disegno di legge che regoli le unioni civili è doveroso e necessario, soprattutto in un paese come il nostro, che sul tema si trova denuncia la Rubinato in ritardo rispetto al resto d'Europa. Ma non bisogna fare confusione tra una questione che riguarda i diritti civili degli adulti ed un tema delicato come le adozioni dei minori. Noi dobbiamo pensare senz'altro a una riforma delle adozioni, ma ne dobbiamo parlare in un'altra sede, appunto quella della riforma delle adozioni. Un bambino non è un diritto, ma è una persona con dei diritti. E quindi occuparsi delle adozioni significa pensare non tanto ai diritti civili degli adulti, ma significa pensare all'interesse preeminente del minore. E dal Family Day di Roma passiamo al Gay Pride in fase di preparazione a Treviso. Vediamo a che punto siamo. Gay Pride nella marca avanti tutta. Lunedì nuovo incontro del comitato organizzatore che danno a settimana ha consegnato al sindaco Manildo il programma di massima dell'evento, in attesa che Cassugana decida o meno sul patrocinio alla manifestazione. Speriamo, io lo spero e me lo aspoco, che la giunta e il sindaco decidano di dare il patrocinio. Nel caso comunque il patrocinio non venisse dato, il Pride Treviso 2016 si terrà ugualmente con tutti i vari eventi previsti e con il corteo finale che si terrà in giugno. Uno dei punti di conflitto è il percorso del corteo, che il comitato vorrebbe passasse anche davanti al vescovado di Treviso. Nelle varie città, anche per televisione ho visto che i cortei sono sempre passati sotto il duomo di tutte le città, di Verona, di Padova, di Venezia, non è mai successo nulla. Penso che siano comunque piccolezze, che se proprio il vice sindaco o la giunta riterrà di non dover far passare il corteo di là, il comitato potrà anche decidere di cambiarlo. Penso che non siano le cose importanti in realtà per il Pride o per un'intesa tra amministrazione e Pride. Insomma, dialogo aperto pur di arrivare all'accordo. Il comitato dialogherà col sindaco, è già cominciato questo dialogo in una discussione aperta dove il comitato sta spiegando gli eventi, il sindaco si è dimostrato interessato e anche molto preparato. Ed ora la crisi della grafica Vianello a rischio chiusura, sono ore decisive per cercare di salvare l'azienda e soprattutto i posti di lavoro. Sono ore decisive per l'esistenza della grafica Vianello. Il posto di lavoro degli ultimi 14 dipendenti sopravvissuti in quella che per quasi 120 anni ha rappresentato il fiore all'occhiello dell'editoria trevigiana e appeso a un filo. Ma forse, come già accade durante la crisi che colpì l'azienda nel 2008, risolta poi con una riduzione del personale, l'ultimo capitolo delle grafiche Vianello deve ancora essere scritto. Questa volta il salvataggio potrebbe arrivare con un nuovo acquirente. Un'operazione delicata, avvolta da un riservo strettissimo, cui fa da sfondo lo spettro del fallimento. Le bocche rimangono cucite anche tra i sindacati impegnati in un giro frenetico di incontri. Sindacati che sperano di riuscire a salvare almeno una parte dei 14 lavoratori, che tra l'altro non ricevono lo stipendio da sei mesi. In ogni caso, non dovrebbe esserci molto da attendere. Il nodo dovrà essere sciolto la settimana prossima. Non commenta la CGL trevigiana, impegnata oggi nella prima tappa veneta della campagna informativa per una nuova carta dei diritti universali dei lavoratori. 86 articoli per una proposta di legge che rinforzi tutti quei diritti che negli ultimi 20 anni, affermano al sindacato, sono stati progressivamente svuotati, rendendo il lavoratore sempre più debole. Noi abbiamo già in programma 150 assemblee, vogliamo arrivare a superare le 500 assemblee, vogliamo consultare oltre 30.000 iscritti nella nostra provincia. Da qui la proposta di una riscrittura delle regole che disciplinano i rapporti di lavoro, una riscrittura che parte dai fondamentali. Parte da questioni, se volete, che sembrano banali, come il diritto a un ecocompenso, ma chi lavora in voucher questo diritto attualmente non è riconosciuto. O ad esempio un diritto a informazione, evitare quello che è successo e anche i giornalisti spesso hanno testimoniato, vedere una fabbrica chiusa la mattina senza sapere nulla rispetto al perché quella fabbrica è stata chiusa. Il diritto di informazione è un diritto fondamentale per i lavoratori. Continua a non piovere oramai allarme siccità nella marca, soprattutto nella zona della Pedemontana. Da ATS arriva l'appello a tutti i cittadini ad evitare qualsiasi spreco d'acqua, perché se si va avanti così presto potrebbero esserci addirittura delle limitazioni nel servizio. Se nei prossimi giorni non pioverà, naturalmente la situazione sarà più critica e dovremo prendere altri provvedimenti come ridurre la portata e in alcuni casi anche reazionare l'acqua. Nella marca non piove e le conseguenze di un inverno caratterizzato dalla siccità non si hanno solamente con l'innalzamento dell'inquinamento nell'aria che respiriamo, ma anche con la riduzione delle riserve d'acqua disponibili nella nostra provincia. All'ATS stanno già correndo ai ripari. Essendoci un 30% in meno di acqua nelle risorgive, siamo costretti a ridurre anche la pressione dell'acqua, in particolare nella Pedemontana. È una zona che ha questi problemi e quindi dovremo assolutamente tener conto. Dunque, se per ora in pianura la situazione rimane ancora accettabile, l'attenzione si concentra nella zona Pedemontana, ovvero in quell'area che per le sue particolari caratteristiche sta soffrendo di più l'assenza di precipitazioni di questi mesi. Perché è ricaricata attraverso le risorgive, le sorgenti. Mentre in pianura non abbiamo questo problema perché abbiamo pozzi che pescono su falde molto profonde. Al di là di quelle che sono le contromisure, che possono essere messe in campo dall'ATS però, l'emergenza è tale da richiedere anche la collaborazione dei cittadini, chiamati ad un impegno comune per un uso più attento dell'acqua, l'appello rivolto a tutti è di evitare qualsiasi spreco. È importante non sprecarla, razionalizzarla e usarla solo se necessario. L'acqua va preservata in particolare in questo periodo di emergenza. E per certi versi rimaniamo in tema perché gran parte dell'acqua potabile di ATS proviene dalle fonti dello Schievenin, al confine tra il Trevigiano e il Bellunese. Schievenin teatro oggi di un singolare recupero da parte del Soccorso Alpino. Nelle immagini che vedete il cane Bibo precipitato in un canalone dopo essere sfuggito al padroncino, un bambino trevigiano in passeggiata lungo la valle. A permettere il recupero i guaiti del cane, comunque vivo dopo un volo di diversi metri. Per poterlo recuperare i soccorritori hanno dovuto calarsi con le corde per una sessantina di metri prima di raggiungere il salto nella roccia dove si era fermato il cane. L'animale dopo il recupero è stato affidato ad un veterinario per le cure del caso. Ed ora andiamo al Banco Solidale di Rete Veneta dove arriva un prodotto tipico della nostra terra, un regalo da parte dei nostri agricoltori per aiutare chi sta vivendo un momento difficile. E' arrivato il radicchio rosso di Treviso al Banco Solidale di Rete Veneta. Uno dei prodotti della nostra terra che i nostri agricoltori hanno voluto offrire in segno di solidarietà con chi non se lo può permettere. Un prodotto che quotidianamente parte dalla marca per raggiungere fresco ogni continente che lo considera una prelibattezza senza prezzo. Un lusso quindi che grazie ai coltivatori anche i veneti schiacciati dalla crisi hanno potuto apprezzare. Ringrazio la ditta Scumparin di Preganziol, Michele e suo papà che ieri si è commosso quando ce l'ha portato e come vedi Nicoletta ci sono molto vicini, capiscono che abbiamo bisogno di queste cose e ce le portano con tanto affetto ma soprattutto con tanto rispetto e ci ringraziano di quello che facciamo. E con il radicchio anche cavolfiori, l'insalata e tanta frutta di stagione. E' la solidarietà veneta per i veneti la stessa che muove l'intero mondo dei volontari. E' sempre di più la gente che riesce a capire quanto sacrificio, quanto lavoro nel mondo del volontariato c'è, questo mondo silenzioso che lavora e che dà tanto alla comunità. Volontari del banco che anche questa settimana hanno riempito oltre un migliaio di borse tra alimentari, di vestiario e di materiali per la casa. Tutto frutto della generosità comune fatta dal gesto del negoziante, dalla grande azienda come dal singolo cittadino e di tanti pensionati, questi ultimi forse più disposti ad arachia poco o nulla. E in questo piccolo grande mondo fatto di condivisione e generosità ci sono gesti che danno un messaggio di speranza, come quello lanciato da una sposa che ha donato il suo abito nuziale. Vedete alle nostre spalle ci hanno portato anche un vestito da sposa, chissà che aiuti a sognare e che sia di buon auspicio per quella che lo indosserà. E' stato il tema di questa settimana del nostro telegiornale, i social network, il nostro rapporto con i social network, tra utilità di questi servizi e anche gli eccessi che a volte si verificano. Bene, siamo andati a chiedere ai trevigiani qual è il loro rapporto con i social network. Voi lo sapete cosa sono i social network? No. Lei? Social network, sento sempre parlare però... Non lo so, non lo so. Guardi, comunque guardi, ci sono più parole inglesi che parole in italiano ormai. Si può vivere anche senza social network, ma sono sempre meno i trevigiani che lo fanno. La comunità virtuale che si forma tramite la condivisione di informazioni attraverso computer e telefonini è oramai un fenomeno diffusissimo e trasversale alle fasce sociali e anagrafiche anche a Treviso. Per informarmi, per stare in contatto con diverse persone con cui sono in contatto. Solo per giocare. Quindi non per informarsi, informazioni di servizio non preferisce... No, assolutamente. L'unico tempo che passiamo davanti al computer, oltre dopo il lavoro, è un po' di svago, sì. Ma che tra chi apprezza e frequenta i social network prevale la consapevolezza di uno strumento dalle enormi possibilità, ma che deve essere utilizzato con cura, prestando attenzione per esempio alla propria privacy o riservandosi di valutare la veridicità delle notizie che corrono in rete. Come tutta la tecnologia dipende dall'uso. Dico, il bisturi in mano a un bravo chirurgo mi fa la perfetta operazione, in mano a un criminale succede quel che succede. Si può utilizzare per informarsi, però bisogna anche sapere che passa un po' di tutto. È un strumento che toglie un po' la tua privacy e non è un vero strumento di discussione tra la gente. Io sono ancora per il contatto fisico. L'attenzione si concentra poi soprattutto sull'uso dei social network, a volte giudicato eccessivo da parte dei giovanissimi, un argomento delicato su cui le opinioni divergono. Sicuramente esagerato, poi dipende dalla maturità di ciascun ragazzo, quindi dipende da parecchie cose. Bisogna educarli, credo, all'uso di queste cose, ma fino ad abbastanza piccoli. Cioè più piccoli li abitui, più sanno difendersi e usarli. Se no dopo sono come dei deficienti quando sono adolescenti e bevono tutto. Questa mattina Santa Caterina la consegna dei totila d'oro alla memoria del giudice Giancarlo Stiz e ad Anna Mancini Rizzotti della Fondazione Atvar. Un premio per ricordare il valore morale del giudice trevigiano che indagò sulle trame nere, ha ricordato il sindaco Giovanni Manildo durante la cerimonia. Suo l'impegno per risalire agli esecutori e mandanti della strage di Piazza Fontana a Milano. Lo stesso che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Oggi ancora esempio per altri giudici e per tutti i cittadini. Poi la consegna ad Anna Mancini per il suo impegno morale e materiale a favore dei malati terminali con l'Advar e l'Hospis di Via Fossaggera. A lei il secondo totila consegnato ad una donna. Il primo negli anni Ottanta lo consegnò il sindaco Antonio Mazzarolli a Giulietta Masina. Ed ora le immagini dei carri mascherati che oggi pomeriggio hanno sfilato a Preganziol una sfilata che apre una serie di appuntamenti con le maschere un po' in tutta la marca. Tante le manifestazioni previste in tutta la provincia con ad esempio la sfilata di domani pomeriggio a Villorba. Il clou martedì 9 febbraio a Treviso con il carnevale in Piazza dei Signori con la sfilata in gran parte dedicata alla politica locale. Con questo siamo arrivati alla conclusione del nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento questa sera come ogni sabato con il cinema di Rete Veneta a partire dalle 21.10 vi proporremo il film La notte brava del soldato Jonathan diretto da Don Siegel con Clint Eastwood. domani alle 9 il Santo Rosario a seguire la parola del Signore alle 10 la Santa Messa dal santuario di Motta di Livenza alle 14.15 la TV dei ragazzi alle 14.35 idea formazione alle 17.50 agricoltura. Con questo per stasera da Treviso è tutto. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per averci seguito.